L'avvisa russo, la giocazione giocattuta udinese, il scambio tra Ghirre e Fernandes, per Terò! Con la punta del piede si rilterò, firma quello che probabilmente è il gol della bandiera dell'udinese ma che potrebbe anche riaprire il discorso, 3-1 con la firma della francese Exchievo. Per Terò è il terzo gol in questa stagione, il miglior marcatore dell'udinese al pari di Duvan Zapata. Un po' buona la palla di Ghirre, poi Terò molto bravo con la punta del piede ad anticipare l'intervento di Digne, infilare la palla nel 7. Buo poco scesne, allora Roma 3-1 Udinese con il gol di Terò.